buongiorno è scattata l'ora solare e io solo per una forma di educazione non addento una delle cose più buone al mondo che esistano c'è il cioccolato la tavoletta di cioccolato non lo faccio e la sto anche tenendo con tutta l'attenzione del caso perché a perché sì se no poi parlerei a bocca piena b perché per parlare mi sto allungando per mettere la tavoletta ecco qua sul tavolino per parlare di queste opere d'arte oggi abbiamo chi lo possa veramente fare signore e signori cecilia tessieri rabassi che è la nostra bandiera ben arrivata grazie signora grazie di essere qui con noi è la prima donna maître chocolatier del mondo si dico che è vero perché non se ne vanta ma si entra qui in studio con la coda di pavone tutta aperta no servendo signora crebbe altro è uno diciamo un traguardo un titolo interessante che ho raggiunto molto importante che sicuramente mi dà tanta gioia ho lavorato tanti anni sono ormai oltre 32 anni che faccio questo lavoro e quando ho iniziato io a percorrere il mondo del cacao del cioccolato veramente non esistevano le donne che si avvicinavano come me per voler capire e imparare a fare cioccolato lei ci è riuscita sì ci sono riuscita con tanti sacrifici con tanto sacrificio e lavoro ma lavorando anche con uomini che mi hanno devo dire che mi hanno anche aiutato e questa è un'ottima notizia uno su tutti bello salutiamo suo marito insomma lei sì sicuramente bellissimo abbiamo figli meravigliosi è vero e loro mi hanno diciamo marito in primo luogo poi il figlio più grande che ha 29 anni mi hanno sempre seguito e mi hanno aiutato e stimolato a fare questo percorso allora è una ragazzina è una ragazzina ma è una ragazzina quando negli anni 80 avete presente film willy wonka no la fabbrica del cioccolato va in svizzera ed effettivamente oggi ne vediamo di più di cioccolato in giro in quegli anni arrivare in un luogo dove il cioccolato era presente almeno quanto gli orologi ovunque diciamo così le ha dato le ha fornito un'idea sì diciamo che la cultura in svizzera era più avanti dal punto di vista del cioccolato dei piccoli confise dei piccoli negozi che si potevano trovare in italia invece al di là della del piemonte poi eravamo abituati a mangiare il cioccolato industriale infatti da un viaggio in svizzera è nata l'idea di creare in toscana un piccolo laboratorio di cioccolato e partire a creare quello che sarebbe questo per me il prodotto della vita il prodotto della vita signora lei ha appena fatto la distinzione cioè lavorare su qualcosa che sia totalmente artigianale deve comprendere innanzitutto intanto deve comprendere una grande un gran coraggio perché lei è stata coraggiosa lei ha detto alla sua famiglia insomma aprire qualcosa di nuovo significa investire no sicuramente e investire su una qualità di prodotto una qualità di prodotto senza compromessi per arrivare a fare quello che secondo me doveva essere il cioccolato più buono e ci è riuscita vero sì senta che meraviglia il cioccolato rimanda sempre per tutta la vita arrivassimo a 99 anni e oltre ci fa tornare bambini no è quel qualcosa che ti sa di premio sa di piccolo furto che possiamo fare no come si fa a lavorare con un prodotto che anche psicologicamente parlando me lo faccia dire così importante nella nostra vita come si fa a trattarlo da prodotto e bisogna sicuramente re e porre attenzione a quello che è il prodotto prima e quello che diventa perché noi chiaramente partiamo dai semi di cacao quindi noi lavoriamo partendo dalla piante giovani quindi le piante giovani sono o in sud americo in africa o nel sud est asiatico in paesi lontani dall'italia quindi bisogna sapere innanzitutto selezionare avere i rapporti diretti con i contadini quindi in un primo momento lavoriamo una materia prima che sono i semi di cacao poi dovrebbero questi che vediamo nel cacao infatti che arrivano da noi crudi e quindi devono essere poi tostati e piano piano tutto il processo tolta la pellicola che intorno diventa nella di cacao e poi creiamo una ricetta e facciamo il cioccolato quindi mangiamo un'altra cosa non il prodotto non è come cogliere una mela da un albero magari mangiare poi la mela ed è buona come sull'albero questi semi sono all'interno di una cabosse e poi devono essere una cabosse una cabosse una specie di melone un po allungato e il frutto attaccato all'albero viene aperto dentro ci sono 30 35 semi in una mucillaggine bianca che poi viene tolta questa sostanza zuccherina e diventeranno i semi così scuri dopo la fermentazione e l'essiccazione in paesi locali avete la colina in bocca la risposta è sì noi tanta ve lo possiamo garantire c'è nelle parole di questa donna alla quale il mondo del del cioccolato il mondo mondo il mondo mondiale me lo lasci dire guarda con ammirazione stima una costante volontà di migliorarsi cioè non è non è lei ha raggiunto questo risultato e basta lei no no io lavoro tutti i giorni lavoro tutti i giorni adesso ho creato questo atelier dove veramente si fa ancora pure innovazione e si cerca di sperimentare ancora prodotti nuovi che ancora non riusciamo a trovare e quindi ho creato ultimamente un cioccolato al vino con un cabernet franca al suo interno ma non è una pralina un bonbon con una base con il vino è veramente un cioccolato che si spezza è uno di questi che qua si spezza e si mangia cioccolato ma poi in fondo quando il cioccolato finisce rimane il gusto di come di aver premuto un bicchiere di cabernet cecilia tessieri rabassi secondo voi la facciamo uscire già da questo studio no non la facciamo uscire tra poco ci fermiamo solo per un attimo guardate il tempo di mangiare un cioccolatino a casa ce l'avete cioccolatino mangiatelo per così entrate già in tutto quello che vi stiamo per raccontare a tra poco grazie eccoci tornati all'ora solare dolcissima oggi parliamo della cioccolata lo facciamo con la prima donna maître cioccolatie nel mondo che è italianissima di capannoli provincia di pisa capannoli provincia di pisa l'ha detto benissimo cecilia tessieri rabassi grazie di essere con noi la sua è una firma che è sulle sue tavolette di cioccolata che gira il mondo questa signora che è mia e vostra splendida ospite è una bandiera italiana che sventola anche quando non c'è vento perché lei nel mondo è il miglior cioccolato che si possa immaginare ed è italia ok quindi così abbiamo tirato il filo il momento più bello dice la signora cecilia nelle tantissime interviste che giustamente ne vengono fatte e quando le persone vengono mettono in bocca il mio cioccolato e sorridono e lì torniamo piccoli vero sì in effetti quando nell'approccio il cominciare ad assaggiare un cioccolato all'inizio sia un po più titubanti si cerca di capire cosa possiamo mangiare ma quando poi il cioccolato veramente entra in bocca e ci dà questa gioia e questa grande emozione sì io vedo molte persone sorridere nell'apprezzare il prodotto che faccio e questa è una grandissima soddisfazione è una grandissima soddisfazione questa signora ha spiega anche la ritualità del cioccolato mi è piaciuto molto quando lei ha detto che sia un cioccolatino che sia una tavoletta aprire sì i motivi però aspettare un attimo non so come c'è godersi il momento effettivamente sprigiona vorrei farvi arrivare a casa il profumo che c'è in questo momento in studio sprigiona un profumo si accoglie infatti questa ritualità proprio dell'aprire il prodotto di guardarlo di sentire nei cioccolati fondenti lo scrocchio quando si spezza e mano a mano arrivano i profumi poi si mette in bocca si comincia a sciogliere e dopo abbiamo altre sensazioni aromatiche questo è un percorso molto interessante spesso siamo purtroppo abituati a mangiare il cioccolato di fretta quasi come uno snack che velocemente e anche in solitudine in realtà secondo me invece è un prodotto che unisce e che fa voglia anche di condividere con gli atti anche una tavoletta spezzata tra varie persone un cordo in un momento di incontro allora ci sono due ragazzi che si chiamano alessandro e ranieri e sono i due splendidi figli di una coppia che del proprio splendido matrimonio continua a fare virtù c'è anche un bassotto e ma questo non ne parliamo ne parliamo dopo allora in questo caso lo devo denunciare prima c'è una cartolina da parte di alessandro e ranieri per una mamma così speciale guardiamo ciao sono alessandro quando ero piccolo 5 6 anni mi ricordo benissimo con un articolo di giornale su un giornale locale dove si diceva che cecilla tessieri ha creato il miglior cioccolato al mondo e io questa cosa qui cioè non avevo dato minimamente peso 6 7 anni zero peso però questa cosa qui mi era rimasta sempre in testa e quando mi presentavo le persone dicevo che lavoro fa tua mamma e faccio la mamma fa il miglior cioccolato del mondo ma era per me era una cosa assodata era una cosa normalissima come chi fa il meccanico o il dentista in realtà questa è una cosa che ha sempre contraddistinto mia mamma quindi uno dei ricordi più lontani diciamo nella mia memoria è proprio questo con l'idea di fare il cioccolato più buono del mondo ora io sono in questo momento sono a san diego in california sono qua fuori per lavoro e mando un saluto ciao a tutti mi chiamo ranieri un ricordo bellissimo di mia mamma quando ero piccolo che mi faceva sempre lei la crema spalmabile alle nocciole una crema buonissima che tuttora fa però con le nocciole di nostra proprietà mamma a me e a mio fratello alessandro ci hai fatto un bellissimo regalo grazie queste bellissime 250 piante di nocciole oh c'era anche il bassotto l'abbiamo visto grazie 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 no che bei figlioli che bei figlioli la mia mamma fa la cioccolata migliore del mondo e poi la mamma che ti spalma sul pane però quella è proprio cioè direttamente dal produttore al consumatore fatta direttamente da me fatta ovviamente allora una splendida mamma poi vi parliamo delle rose che coltiva ma questa è un'altra storia il cioccolato deve essere cioccolato deve essere come ci piace ma io sono una fondentista cioè per il cioccolato fondente buono buono di carattere di carattere e se ne può mangiare forse un po di più rispetto al cioccolato al latte allora diciamo che non fa ingrassare il cioccolato non fa ingrassare il cioccolato fondente per quello veramente buono è fatto di solo tre ingredienti che sono il cacao lo zucchero e il burro di cacao quindi chiaramente un cioccolato al 70 all'ottanta per cento a un 20 per cento di zucchero poi tutto cacao e burro di cacao chiaramente quindi non fa bene energia immediata al cervello è una fonte proprio di da sensazione di benessere e quindi io lo suggerisco sempre però lei lo suggerisce al mattino si al mattino quello fondente mentre a merenda cosa si mangia un pozzettino di cioccolato al latte con le nocciole per esempio è buonissimo professionista e la sera si possono fare abbinamenti con i cuori distillati quindi il cioccolato ci accompagna tutta la giornata che donna meravigliosa allora che donna meravigliosa il l'essere donna non è una domanda astrusa e aggiunge qualcosa alla scelta al anche alla novità che si vuole metter dentro ad un nuovo prodotto che lei sul quale lei debba lavorare certo allora quello che è importante capire spesso quando si fa un prodotto a chi vuole essere dedicato quindi sia un prodotto più per adulti per bambini quindi doveva essere un prodotto goloso un prodotto magari che invece da più energia quindi una sobria tavoletta di cioccolato fondente quindi questo me lo domando continuamente quando faccio prodotti nuovi è chiaro ma deve essere sempre comunque un prodotto che lascia un ricordo un piacere bellissimo cecilia la chiamo così perché questo è il suo bellissimo nome è la prima donna al mondo a fare questo lavoro e a farlo in una maniera così alta sì così alta così importante perché altre donne e lei mi risponderà che ne so io ma insomma perché perché la prima donna al mondo a fare questo lavoro secondo perché sempre stato fin dall'antichità se pensiamo a un lavoro maschile in andare in piantagione in paesi lontani e poi lavorare come ho imparato io io ho imparato veramente lavorando nelle fabbriche e lavorando nei laboratori dei confisè quindi non ho fa non sono entrata ho fatto delle scuole speciali io sono andata a imparare un mestiere con tutti i sacrifici e la fatica che si fa perché insomma non è un lavoro così tanto femminile però io tutta la mia femminilità l'ho messa nel prodotto che bella come l'ha detto bene come l'ha detto bene non ci sono dubbi non ci sono dubbi allora lei ha una giornata tipo molto schedulata chiaramente certo ovvio lavora con la sua famiglia si ha anche tempo per fare le coccoline come si chiama il bassotto artù scusi non più che regale e anche tempo quando tutto il lavoro è finito per dedicarsi alle sue meravigliose rose e questo la rende ancora più personaggio da fiaba invece lei un'imprenditrice con le spalle larghe così certo però diciamo che ho scoperto anche durante la pandemia che lavorare con la terra magari con i fiori o mi sono dedicata molto al giardino eccetera ti rilastra e fa tanto bene e quindi le rose in questo in questo caso un fiore bellissimo mi piace tantissimo e cerco di curarlo nei limiti del tempo che il suo papà le regalava la sua mamma le rose un uomo meraviglioso allora dice cecilia il mio palato è come una bilancia cioè la lavorazione del cioccolato è voi la fate ovviamente nel pienissimo totale rispetto come deve essere di tutta la sicurezza però poi ad un certo punto è anche una intuizione no si bisogna intuire bisogna capire è una materia prima non facile da lavorare basta capire che arrivi il cioccolato per diventare solido deve essere prima liquido poi è solido ma basta un calore o un passaggio tecnico sbagliato diventa liquido cambia continuamente fase stadio quindi mi sapevo lavorare quindi mi fa sempre porre molta attenzione a questo prodotto così magico che poi si parte dai semi e si arriverà tavoletta ma lei non fa soltanto questo perché lei si è dedicata anche dice tanto tanto che faccio il cioccolato perché non fare anche anche qui delle marmellate e quindi ranieri avrà la marmellata sul pane e noi tutti invidiosi no non è vero sto scherzando delle marmellate però anche qui devono avere dei prodotti specialisti sono marmellate che hanno il cioccolato al suo interno quindi è una pera con cioccolato fondente e una marmellata delle arance dell'elba con la granella di cacao madagascato stata al suo interno c'è sempre questo fil rouge di cacao o cioccolato che segue tutti i miei prodotti ultima domanda cecilia tessieri rabassi qual è la prossima non me la può svelare evidentemente però la prossima creazione proprio quella che le sta passando così in questo momento sotto il naso e per il palato il nuovo progetto su cui sto iniziando a lavorare da qualche mese ma che sta cominciando a prendere forma il cioccolato personalizzato come un profumo quindi io no le persone vengono il mio atelier stando con me un mezz'ora 30 40 minuti parliamo cerco di capire facendo di assaggiare qualcosa non usare qualcosa parlando con loro di capire quello che è il cioccolato che loro vorrebbero avere e riesco a ricreare in piccoli batch questo cioccolato come un gran profumo che poi manderò nelle loro case loro riusciranno a far scoprire agli amici il loro cioccolato che porterà il nome cognome sarà la ricetta che io avrò sempre con me e che loro potranno sempre riavere lei sa di essere una fata no è una cosa di una bellezza unica ringrazio il mio caro amico riccardo cresci che mi ha fatto incontrare cecilia tesieri rabassi ringraziamo grazie al mondo grazie al mondo